Seconda edizione del premio MCL Torricella Terra da Mare, il Movimento Cristiano Lavoratori, sezione della Città del Vino, ha organizzato per domenica 23 luglio la cerimonia di consegna del premio che sarà conferito alle eccellenze del territorio. Saranno premiati personalità a livello istituzionale, culturale, sociale e anche ecclesiastico e in questa occasione ci saranno invitati personalità a livello istituzionale, civile e militare. 11 le personalità che saranno premiate, individuate nel campo delle istituzioni, della politica, dell'imprenditoria locale a Torricella in Piazza Castello, domenica 23 luglio a partire dalle ore 20. Qual è lo spirito di questa seconda iniziativa? È quello di continuare come la prima edizione a promuovere il nostro territorio, a promuovere le aziende, a promuovere chi si è distinto durante l'anno in tutte le categorie.